Rinviata alla prossima udienza del 13 giugno la decisione su se si potranno utilizzare o meno le intercettazioni nell'ambito del processo che vede imputati Fiorenzo Zoccola e l'ex assessore alle politiche sociali del comune di Salerno Nino Savastano, accusati di turbativa nella scelta del contraente nell'eseguire la manutenzione del verde pubblico e di corruzione elettorale. Il secondo collegio penale dovrà adottare il provvedimento in un contesto legislativo caotico sulla materia, inutilizzabili per gli avvocati Agostino De Caro e Giovanni Annunziata, difensori di Savastano e per il professor Giuseppe della Monica che assiste Fiorenzo Zoccola, valide invece per il PM Guglielmo Valenti. La decisione del 13 giugno sarà fondamentale per il prosegue del processo per il quale le intercettazioni rappresentano una buona parte delle tesi dell'accusa. Intanto uno dei due consulenti incaricati dalla procura, ascoltato lunedì pomeriggio, ha detto che parte delle cooperative sociali che curavano la manutenzione del verde pubblico del comune di Salerno non possedevano i requisiti minimi per essere considerate tali e rientrare quindi nell'apposito albo. Molte cooperative, ha detto in aula il consulente, non avevano il 30 per cento dei soci appartenenti a categorie protette. I controlli del Ministero dello Sviluppo Economico, che dovevano verificare il rispetto dei requisiti, dovrebbero essere annuali. Sono stati rari e, tranne che in un caso, non avrebbero accertato questo deficit. In ogni caso le verifiche dei requisiti delle cooperative non spettavano al comune che doveva verificare solo se le cop erano iscritte all'elenco delle cooperative sociali e non il possesso degli elementi per essere iscritte. Controllo che compete alla vigilanza ministeriale. Anche questo argomento sarà oggetto di approfondimento nell'udienza del 13 giugno prossimo. Grazie a tutti.